In questo mondo che stiamo a fare? Vabbè, allora no, racconta un po' come si fa a non morire, che non tutti lo sanno. Ci sta rimedio per non morire. Sì, vabbè, dai. Ci sta rimedio, non te lo dicono. Questi scienziati lo sanno, più di qualcuno non muore. Io lo so pure io, però non è tanto facile. Eh, dai, non ci credo. No, non è tanto facile, ha spiegato, però io lo so come si fa per non morire. Tu devi da pensare, tu per non morire, mai però, mai, viene eterno. Basta tu non te mori, cambi sempre. È così, eh? È così, sì, sì. Tu basta che ti riesci a non morire, tu vedrai che cambi sempre.